Intanto Presidente, voi avete già iniziato a fare il mix vaccinale per coloro che avevano avuto la prima dose di AstraZeneca ma avendo meno di 60 anni ora dovranno avere o Pfizer o Moderna o anche voi siete in attesa di avere indicazioni più precise? Noi intendiamo uniformarci come abbiamo sempre fatto, tranne rare eccezioni, rari casi, alle indicazioni nazionali perché credo che mai come in questo momento serva una chiarezza nella comunicazione. Io concordo con chi mi ha preceduto perché non si può parlare in dieci lingue diverse. La Sicilia peraltro, come voi sapete, ha pagato più di tutti la diffidenza verso AstraZeneca per cinque mortali casi che comunque non sono stati mai ricondotti a responsabilità del vaccino ma che hanno creato una psicose difficile da neutralizzare. Quindi intanto il criterio del governo regionale è seguire le indicazioni nazionali. Ma da Roma continuano ad arrivare linguaggi e tesi diverse e qualche volta anche contrastanti. Tra poco, Presidente, torniamo ad accendere un focus sulla sua regione anche rispetto a questa diffidenza soprattutto nelle fasce più anziane. Torniamo a Roma, alla nuvola, Ludovica Ciriello ha un ospite.